Bella a tutti ragazzi qui SenzaDragon, siamo tornati con questo nuovo video su Call of Duty Infinity Warfare, detto me che a squadre, sono con il mio amico Nitro. Ciao regà, ciao a tutti. Occhio, c'è fino, e uno è dentro già. Uh, la mira. Che è fermato, strano. Siamo a morire Nitro. Mi sembra una mano, arrivo, arrivo, arrivo. No, dai! Siamo morti insieme. Non so se hanno fatto una cosa buona. No. Si me ha ammazzato di dietro qualcuno. No, quello davanti. Es che mi ha ammazzato sempre. Basta. Ora gioco come bestie code. Mamma mia, quanti sono, Nitro. Hai riuscito a passare. Aiuto, ci stanno dietro. Ci stavano dietro. Non crepare, Nitro, arrivo. Temporeggia. Sono arrivato. Infatti guardo io se arriva qualcuno dietro. Guarda solo avanti. Ammazzato. Ammazzato. Sei morto, Nitro? No, sì, sì, sono morto. Mi sono entrati. Guardami dietro, non mi fai passare nessuno, mi raccomando. Morire. Eh, per tutto, bomba, salvare tutto. Fessi così. Non so, ma ho vinto. Ho fregato l'armatura. Sono a metà strada, avanti così. Sono a loro pone, aiuto. Mazzardo. Non ho raggiunto, giro guarda, non l'ho vista. No, me l'hanno distrutto. Attività nemica confermata, triangolazione. Oh, ebbene, amico, la visita. Ti ho detto, gioco a tipo i vecchi cod, vediamo che succede. Non si muovono. Andiamo se... Raspano i compagni. Ma c'ho capo a fare che andava a partire. Tutti entro la casa, lo so. Tutti qua dentro sono occhio Nitro? No, 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 no. Siamo finiti le emulsioni Nitro, è finita me. Tutti i camperati. Ma come può essere che non ho sciagallo? Mi sono finiti le emulsioni. Andiamo a stare in mezzo. Comunque, questo scambio è esagerato. Che? Che muore insieme, è esagerato. Ma può essere che non ho sciagallo. Mannaggia. Veramente. Non voglio morire. Uh, ce l'ho fatta. 34-2. Era in serie. Perché sono morto all'inizio due volte, mi pare. Non mi ricordo. Qua mi sono spaventato, ero in 4. Ho messo l'armatura e sono scappato. Ragazzi, per questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e condividete il video. Bella. Ciao, regà.